Netatmo Tags Questi tags funzionano solo con le telecamere Netatmo Welcome o Presence che sono vendute separatamente Si tratta di sensori di movimento e vibrazione ma anche di aperto e chiuso Dunque vanno bene anche per cassetti non solo per porte e finestre I sensori sono molto piccoli, sono 76x15,8x30,4mm Sono tre tutti uguali, sotto hanno il vano batterie e dietro hanno già pronti i due biadesivi per l'attacco rapido A tutti i tipi di porte e finestre, vanno bene sia per gli ambienti chiusi che anche l'aperto Perché sono resistenti al raggio UV, alla pioggia e al vento All'interno della scatola abbiamo anche un manuale d'uso che è nascosto qua sotto Il pezzo che ci serve per aprire il vano batteria dei tre tags Sei batterie stilo AAA della durata di due anni di autonomia E altri piccoli biadesivi nel caso doveste staccare e riattaccare i tags Il collegamento radio tra tags e Netatmo Presence o Welcome è di massimo 80 metri Questo era il contenuto della scatola di Netatmo tags Grazie a tutti Grazie a tutti